Nato sotto una buona stella, il titolo che ha scelto per il suo film al cinema è stato quasi profetico. Carlo Verdone è in sala fatto scintille con gli incassi della pellicola di cui ha curato la regia e che lo vede recitare al fianco della bravissima Paola Cortellesi, con cui il feeling c'è e si vede, solo per set, chiaro. La sua è una commedia sulle solitudini, sulla ricerca di affetto, sul desiderio di solidarietà, sulle fragilità di oggi. Nel cast spiccano le presenze di Thea Falco, Lorenzo Richelmi ed Eleonora Sergio. Carlo è felice e non potrebbe esserlo di più